Anna Caruccio, qual è la sensazione in questo momento? La sensazione non è una sensazione, ma è un dato di fatto. I trapanesi si sono votati nuovamente un sindaco che ha distrutto la città di Trapani e hanno appoggiato, permettendo che scattasse il cuormo, a tutte le liste organizzate da suoi assessori che hanno collaborato alla distruzione di questa città. E mi riferisco non solo al bilancio, mi riferisco alla discerbatura, mi riferisco alle strade, mi riferisco all'acqua, al cimitero e a tanto altro ancora. Se questi sono i dati, se dovessero essere confermati, e quindi io ho un buon risultato dal punto di vista personale sicuramente, la lista ha dei problemi, ma vedo che questi dati, che questa analisi riguarda non solo la sottoscritta, ma anche quei colleghi consiglieri, come voglio dire la collega Trapani, come voglio citare il collega Lipari, che hanno difeso insieme a me, in questi cinque anni, la città di Trapani. Allora i trapanesi non hanno gradito questi sacrifici, queste nottate, questi studi, queste lotte che abbiamo portato avanti anche fino alla procura della Repubblica di Trapani. Ripeto, non so se questi dati verranno confermati o meno questa notte, ma se dovessero essere confermati, evidentemente io a questo punto sono contenta di tornare a fare quello che facevo prima e di fare altro. Grazie.